Buongiorno, grazie per essere a questa conferenza stampa che ho l'onore di ospitare alla Camera dei Deputati. Qui al mio fianco ci sono Franco Corleone, Stefano Anastasia, Sara Grieco e abbiamo collegato il professore Andrea Pogiotto. Questa conferenza stampa è stata convocata significativamente alla vigilia di una importante adunata della Corte Costituzionale che domani dovrà decidere sul diritto alla affettività e alla sessualità delle persone detenute. Durante questa conferenza stampa sarà presentato da chi interverrà un appello, l'appello dal titolo Il corpo recluso e il diritto all'intimità in attesa della sentenza della Corte Costituzionale. Un appello che è stato redatto dal professor Andrea Pogiotto e un appello che è stato promosso dalla Società della Ragione, dall'Associazione Luca Coscioni, dal Centro per la Riforma dello Stato e che nel giro di poche ore da quando è stato reso pubblico ha raccolto la sottoscrizione, il sostegno, l'adesione di più di duecento personalità nel mondo dell'Accademia, nel mondo dei garanti dei diritti dei detenuti e più in generale dei soggetti e delle associazioni impegnate nella tutela dei diritti ma anche fra avvocati e magistrati. Al mio fianco e collegati ci sono le persone più qualificate per ricostruire e ricordare qual è l'importanza decisiva in termini di diritti e di tutela e di garanzia dei diritti fondamentali della persona della decisione che domani la Corte Costituzionale è chiamata a prendere. Come ricorderanno già una prima volta nel 2012 la Corte Costituzionale si era occupata del tema, sollevato anche in quel caso da un magistrato di sorveglianza e non era giunta una decisione per motivi procedurali, per motivi processuali ma aveva rivolto comunque anche in quel caso un appello al legislatore, un appello al Parlamento. Appello che è rimasto senza risposta nonostante in questi dieci anni, undici anni vi siano state diverse proposte di legge depositate sul tema e questa mattina è anche l'occasione da parte mia in particolare di rendere pubblica ed è in distribuzione per chi la vorrà vedere una proposta di legge che abbiamo appena depositato proprio per la modifica dell'ordinamento penitenziario e per modificare l'ordinamento nella direzione di garantire tutela per le relazioni affettive e intime delle persone detenute. Questa proposta di legge riprende in ampi passaggi una proposta di legge che era stata depositata nella scorsa legislatura e promossa dalla Regione Toscana, al Senato aveva visto un'iniziale fase di esame in Commissione Giustizia, relatrice ne era stata la senatrice Cirinna, vi era stata un'analoga proposta di legge promossa dal Consiglio regionale del Lazio, vi era stata una precedente proposta di legge nel 2006 sottoscritta dai deputati Boato, Ruggeri, Boemi e Balducci. Vi leggo solamente prima di passare la parola agli altri relatori la parte, il passaggio principale della norma, l'articolo 1. Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di 6 ore e massima di 24 ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi. Comprendete, conoscendo tutti qual è la realtà del sistema penitenziario italiano in questo momento, la portata rivoluzionaria di una norma del genere. Ricordo solo, passando poi la parola a Stefano Anastasia, che norme analoghe sono già vigenti nella maggior parte dei paesi europei, con sfumature diverse da un punto di vista dell'impianto del diritto che hanno e cioè in alcuni casi vengono viste a nostro viso erroneamente come delle forme di tutela alleviata nei confronti di che ha una buona condotta e quindi quasi una forma di premialità. A nostro avviso invece dovrebbero costituire e rappresentare una costante e una garanzia costante e costitutiva del trattamento penitenziario. Nel passare la parola a Stefano Anastasia leggo solo le parole di Alessandro Margara che nel lavorare insieme a Franco Corleone che è alla mia sinistra al progetto di riforma del regolamento avevano previsto che vi fosse questa norma, una norma che poi era stata stralciata. Le parole di Margara sono queste. Vogliamo tenere assieme cose che possono apparire impossibili, ma non devono esserlo, cioè un carcere vivibile in cui la pena non abbia nulla di afflittivo oltre la perdita della libertà. Ecco, noi in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, della pronuncia della Corte Costituzionale che ci sarà domani e dalla quale ci aspettiamo una chiarezza definitiva su questo punto, lanciamo da questa conferenza stampa anche un appello alle forze politiche, agli altri gruppi parlamentari, di sottoscrivere questa proposta di legge che attualmente vede la mia firma e la firma di Benedetto della Vedova come primi firmatari, nell'auspicio che possa avvenire quello che sta avvenendo e ovviamente ne siamo felici con un'altra proposta di legge che sul tema della riforma del carcere abbiamo presentato poche settimane fa qui, e cioè quella per l'istituzione delle case di reinserimento sociale, che al momento ha visto l'adesione di tutti i gruppi di maggioranza e auspichiamo che a breve possano arrivare anche delle sottoscrizioni, tutti i gruppi di opposizione auspichiamo che a breve possano arrivare delle sottoscrizioni anche da esponenti della maggioranza. La parola a Stefano Anastasia, garante per i diritti delle persone detenute nel Lazio e coordinatore dei garanti territoriali. Innanzitutto grazie a Riccardo Maggi per questa iniziativa, l'iniziativa legislativa e questo incontro e grazie alle associazioni che si sono fatti i promotrici dell'appello redatto dal professor Pugiotto che interverrà dopo di me. Grazie quindi anche a coloro che non hanno potuto essere oggi presenti come le presidenti della Società della Ragione, del Centro di Riforma dello Stato, Grazia Zuffe e Maria Luisa Boccia per l'iniziativa che hanno preso. Io credo che si tratti di un tema molto importante, di una scadenza molto importante, quella che abbiamo domani. Attesa appunto come diceva un attimo fa l'anuevole Maggi da dieci anni, da quando la questione fu già portata alla Corte Costituzionale e non diede l'esito dal mio punto di vista e dal punto di vista delle persone detenute sperate per una, diciamo sì, una debolezza procedurale del quesito. Debolezza che questa volta, è spiegato bene anche nell'appello che poi verrà presentato, debolezza che questa volta il quesito non ha, perché appunto è possibile dare una risposta conforme a Costituzione che effettivamente superi questa grave mancanza che nel nostro ordinamento, ormai appunto tra gli ultimi in Europa, che non consente incontri riservati delle persone detenute con i loro familiari e quindi anche laddove le persone vogliono farlo, anche diciamo sì, relazioni intime e sessuali, che come giustamente si dice nel testo dell'appello, ma che come sostanzialmente ha riconosciuto la Corte Costituzionale nella sua pronuncia del 2012, è un diritto fondamentale della persona. È un diritto fondamentale della persona, attiene diciamo sia alla pienezza della vita umana e che non ha ragione di essere limitato, se non per un intento punitivo, aggiuntivo e di per sé illegittimo, oltre quello della restrizione della libertà. Quindi noi speriamo che appunto l'esame in Corte Costituzionale questa volta possa essere risolutivo della questione, senza ulteriori invi al legislatore, perché l'ordinamento oggi definisce le modalità in cui gli incontri riservati possano essere svolti, perché esiste dal 2018 una previsione di legge che è prevista per l'ordinamento penale minorile, che può essere applicato anche nel caso degli adulti e dunque diciamo sì, la decisione della Corte potrebbe essere immediatamente esecutiva, salvo ovviamente diciamo sì, le organizzazioni tecniche che saranno necessarie all'amministrazione penitenziaria per garantire l'esercizio di questo diritto, ma può essere immediatamente esecutiva. E quindi noi speriamo che la Corte si pronunci, si pronunci favorevolmente, si pronunci appunto in modo tale che la cosa possa essere finalmente, diciamo sì, affrontata e risolta e in qualche modo diciamo sì, aiuti anche a superare una resistenza ad affrontare le questioni che hanno a che fare con i detenuti, in modo particolare le relazioni affettive dei detenuti, che voi sapete è uno dei temi fondamentali per la qualità della vita in carcere e la qualità della detenzione. Voglio ricordare che nell'agosto scorso, quando due donne persero la vita a distanza di poche ore l'una dall'altra nel carcere di Torino, il Ministro della Giustizia e poi il Sottosegretario Stellari annunciarono l'aumento delle occasioni di comunicazione e di relazione con i familiari, l'aumento dei colloqui e quant'altro. Ad oggi nulla di tutto questo è stato fatto, anzi diciamo sì, questa modifica regolamentare che il Consiglio dei Ministri avrebbe potuto adottare in una riunione propria del Consiglio dei Ministri e viceversa è stata prevista nel famoso disegno di legge sicurezza, quindi affidato all'incertezza del percorso parlamentare, incertezza quanto al contenuto e ovviamente incertezza anche quanto ai tempi. Quindi c'è una, è tutto evidente, una difficoltà del, chiamiamola almeno così, difficoltà del Governo a misurarsi con questi temi, è auspicabile che la Corte questa volta appunto si pronunci in maniera risolutiva sulla questione dell'affettività della sessualità in carcere in modo tale che appunto si possa avere una soluzione all'indomani del giudizio che verrà. Grazie. Grazie Stefano Anastasia, ora se ci sente ed è puoi intervenire darei la parola al professore Andrea Pugiotto che è estensore e primo firmatario dell'appello. Andrea ci senti? Io vi sento, voi mi sentite, mi vedete? Sport e chiaro, a te la parola, vediamo anche. Grazie Presidente, grazie. La questione di legittimità che domani la Corte Costituzionale dovrà decidere è scandalosa. Intendiamoci, lo scandalo non sta nel suo oggetto, cioè il diritto all'intimità della persona che siete in carcere, ma nel fatto che nel nostro ordinamento opri da sempre un vero e proprio dispositivo che ne vieta comunque l'esercizio, anche in assenza di ragioni di sicurezza. Non è così altrove. Sono 31 i paesi europei, ma accade anche in India, Messico, Israele e Canada, che prevedono la possibilità per i detenuti di usufruire in carcere di spazi in cui cattenersi con persone a cui sono legate effettivamente al riparo dal controllo abusivo degli agenti penitenziari. Il riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo all'affettività inframuraria è anche l'approdo raccomandato dal Parlamento europeo, dal Consiglio d'Europa e da sentenze della Corte di Strasburgo. Dunque, sia l'esperienza comparata, sia le fonti di software transnazionali attestano che, se si vuole, si può rimuovere quella che attualmente è una primitiva pena corporale. Da noi invece, è già stato detto, non esiste alcuna norma legislativa regolamentare che discipli la materia. Ora, su questa anomia, secondo me, si è sedimentato un'indulgente narrazione. Suona più o meno così. Le relazioni affettive familiari sarebbero garantite attraverso molteplici previsioni normative, per dire la corrispondenza, le periodiche telefonate, i permessi di necessità, la ritenzione in carcere vicini alla residenza familiare. Quante i colloqui elementari e esigenze di sicurezza impongono il controllo a vista da parte di agenti di custodia, vale anche per le visite negli appositi spazi di socialità del carcere. L'intimità sarà maggiore, ma mai completa e compiuta. Inevitabilmente, sacrificato, il diritto alla sessualità del detenuto troverebbe comunque una satisfattiva compensazione nel beneficio extramurale dei permessi premio, 45 giorni al massimo. Ora, le bugie hanno le gambe corte, come in questo caso. Da un lato, ci sono molti detenuti che, de jure o de facto, non accedono né possono aspirare a questi eventuali parentesi extraprintenziali. E dall'altro, una simile alternativa a quella dei permessi premio, trasforma un diritto fondamentale in un premio che il detenuto deve meditarsi, come se la disponibilità del proprio corpo, quale mezzo di relazione affettiva con il corpo dell'altro, potesse aspettare solo i buoni e non anche i cattivi. E così, la vita sessuale, che occasionalmente e tantissimamente si consuma dito le sbarre, non può che ricalcare le modalità ruminanti del sesso immaginato e solitario, oppure le forme del rapporto omosessuale, spesso rassegnate, talvolta subite. In ogni caso, si tratta giuridicamente di atti o scemi in luogo aperto al pubblico, perché questo è lo spazio del carcere. Oggi dipenalizzato, fino a ieri, la violazione dell'articolo 527 del Coges Penale poteva essere sanzionata con la pena da 3 mesi e 3 anni. Non basta. Oggi, come ieri, il detenuto è sempre punibile sul piano disciplinare con la sottrazione di un semestre dal calcolo della liberazione anticipata, e così sono 45 giorni in più di galera. L'operatività di questo dispositivo proibizionista pone seri problemi di costituzionalità. Ce lo ha già detto la consulta 11 anni fa. La sua sentenza, 301 del 2012, che, come ricordava Stefano Anastasia, respinse per ragioni meramente processuali i dubbi del Tribunale di Soviglianza di Firenze, era però molto chiara nel merito. Lo ricordo, annoverava il diritto all'intimità inframuraria tra quei residui di libertà personale di cui detenuto resta titolare, riconosceva che l'esercizio del diritto all'affettività è compatibile con lo stato di reclusione, certificava l'insufficienza dei premissi premio come rimedio al problema e considerava necessario un intervento legislativo in materia, di cui tracciava anche le linee guida. Ebbene, questo inequivoco monito legislativo non è rimasto semplicemente inascoltato, è stato deliberatamente disatteso per il Parlamento. Ricordo che nella diciassettesima legislatura venne approvata una legge di delega alla riforma dell'allegamento penitenziario. Tra i suoi principi eccitari indirettivi, quella legge delega prevedeva, cito, il riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute internate e la disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio. In sede di attuazione, però, i decreti legislativi deliberati dal governo Conte I non hanno introdotto alcuna disciplina in materia. Né la postura del legislatore è cambiata nella scorsa diciottesima legislatura, nonostante i disegni di legge presentati alle Camere dei consigli regionali della Toscana e dell'Azio. Dunque, il lunghissimo silenzio seguito alla sentenza 301 del 2012 esprime qualcosa che non è semplicemente una protratta inerzia legislativa. C'è un deliberato rifiuto di modificare lo stato delle cose. Ecco perché il problema è tornato al Palazzo della Consiglia. attraverso il vettore della questione di costituzionalità promossa dal magistrato di sorveglianza di Spoleto. La sua ordinanza mette in fila indiana le tante durazioni di articoli della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo derivanti dall'attuale negazione del diritto all'intimità di tre sbarre. A sostegno dei dubbi prospettati dal giudice, ci sono espressi 200 fra giuristi, garanti e soggetti impegnati nelle affermazioni della legalità costituzionale nelle carceri. Vorrei essere chiaro, adesioni che non abbiamo raccolto con la pesca a strascico, ma con la canna da pesca, rivolgendoci, ciò è, a chi per studio, per mestiere, per impegno sul campo, sa bene che cos'è e che cosa dovrebbe essere, secondo Costituzione, l'attivazione della libertà personale. So che il testo dell'Appello è a disposizione dei giornalisti presenti in sala, dunque non mi attardo a illustrarne le ragioni, tese a dimostrare che, anche dietro le sbarre, le parole amore e Costituzione non sono incompatibili. Preferisco segnalare tra i giuristi firmatari la presenza di riconosciuti maestri del diritto penale, Emilio Dolcini, Giovanni Fiandaca, Tullio Padovani, Francesco Palazzi, gli maestri della filosofia del diritto, Luigi Ferraioli, Tamar Pitch e Ligio Resta. Segnalo in molti colleghi trattori autorevoli della mia disciplina di diritto costituzionale che non è neanche solo per ragioni di tempo. Rimarco l'adesione dell'ex giudice della Corte di Strasburgo, Valdimido Zorzebeschi, le firme di tutti gli ultimi presidenti dell'Unione delle Camere Penali italiane, dell'attuale Francesco Petrelli ai suoi predecessori, Dandomenico Cagliazza, Beniameno Migliucci, Valerio Spigarelli. E sottolinea infine l'adesione di componenti attuali o passati del Comitato Nazionale di Bioetica, Stefano Canestrari, Carlo Casonato, Nonica Toraldo di Francia, Grazia Zuffa, Comitato Nazionale di Bioetica, che nel 2013 ha espresso un parere sulla salute dentro le mura, raccomandando, cito, la possibilità di godere di intimità negli incontri fra detenuti e coniugi partner in modo da salvaguardare l'esercizio dell'affettività e della sessualità, in nome del principio etico della centralità della persona. La parola adesso è i 14 giudici costituzionali, come è noto infatti il Parlamento in seduta comune non ha ancora eletto il sostituto della giudice Silvana Sciarra. Negli ultimi sei anni vorrei ricordare che la Corte Costituzionale ha scelto di aprirsi alla società civile attraverso una panoclia di misure comunicative, iniziative pubbliche, novità processuali. È una storia raccontata molto bene dal libro di Giuliano Amato e Donatella Stasio, Storie di diritti e di democrazia alla Corte Costituzionale nella società, pubblicata un mese fa da Feltrinee. Ora, l'appello che è stato rivolto ai giudici costituzionali in vista dell'evidenza pubblica di domani si muove in questo contesto, secondo uno spirito di leale cooperazione costituzionale, non è un proclama, non è una forma di pressione indebita, è un amico scuri e di dominio pubblico, perché tutti possono leggere e valutarlo dentro e fuori il Palazzo della Consiglia. L'augurio di tutti i firmatari e mio personale che dell'appello sono stato estensione è che questo testo possa aiutare la Corte Costituzionale a pronunciare una decisione che sia coerente e seguito di quanto essa stessa, undici anni fa, ha già accertato come un invieto costituzionalmente ingiustificato, perché vale per noi, ma anche per i giudici costituzionali, i principi di non contraddizione. Grazie e mi scuso solo per il collegamento da remoto, ma non potevo lontanarmi dall'università dove avevo lezione stamattina. Grazie, grazie davvero ad Andrea Pugiotto, grazie anche in particolare per la bellissima espressione amico scuri e di dominio pubblico con la quale ha definito questo appello e ora do la parola a Sara Grieco che ha dedicato anche alla questione del diritto all'affettività delle persone recluse, un saggio. A te Sara. Sì, buongiorno a tutti. Allora, perché questa campagna? Questa non è una, in questo caso parlo più che da giuristata come componente della Società della Ragione che è stata una delle associazioni promotrici. Non si tratta solo di liberalizzare gli affetti, consentire il diritto alla sessualità quando non ci sono particolari ragioni di sicurezza ovviamente. qui si tratta di cambiare visione della pena. La pena non può più rappresentare una mortificazione del corpo. Questo è il punto essenziale. La pena è una limitazione della libertà personale e le convenzioni europee e internazionali ci dicono in modo strettamente proporzionale rispetto al fine. Ogni qualvolta non c'è un motivo di sicurezza, la pena deve essere ridotta al motivo di sicurezza. Qui manca il principio del bilanciamento tra la sicurezza e la limitazione della libertà personale. Ogni volta che questo principio di bilanciamento viene a cadere, la pena diventa inumana e degradante. Questo è il punto. Quindi è qualcosa di molto più ampio di quello che stiamo discutendo. Veramente è un cambio di visione radicale. E vengo qui velocemente. Prima lo diceva bene l'onorevole Maggi. Siamo un unicum nel contesto europeo e internazionale. Ben 31 stati sui 47 del Consiglio d'Europa hanno in modi diversi e ha autorizzato le visite intime. 31 su 47. Persino in alcuni stati a livello internazionale degli Stati Uniti d'America, che sappiamo bene il grado di sofferenza all'interno dei regimi penitenziari degli Stati Uniti, alcuni stati hanno autorizzato le visite intime. E vengo qui alla proposta di legge. Perché la proposta di legge? Perché noi abbiamo cercato di fare quello che ci aveva suggerito la Corte Costituzionale nel 2012. Che cosa diceva la Corte? Non basta un intervento meramente ablativo. Serve regolamentare spazi, tempi, luoghi e interlocutori. Questa condizione ce l'hanno spiegata gli stessi detenuti. Quando siamo andati insieme al nostro garante regionale a svolgere queste ricerche come Università di Cassino e del Lazio Meridionale negli istituti penitenziari del Lazio, che cosa ci riferivano i detenuti alla domanda? Lei ritiene che il diritto alla sessualità debba essere esplicato? Dipende. Dipende. Dipende da le modalità. Dipende se viene tutelata la dignità e la riservatezza della mia compagna o di mia moglie. Ecco, noi abbiamo provato a fare proprio questo, a dare quegli spazi, tempi, luoghi e interlocutori. Ma con questa proposta di legge abbiamo fatto anche un passo avanti, perché lo diceva bene il garante prima. L'affettività è una dei volani della pena umana e lo diceva anche l'ordinanza. Se voi leggete l'ordinanza, Gianfilippi, a un certo punto collega in modo, secondo me, molto coraggioso, il tasso di suicidi con la mancanza di rapporti familiari significativi da poter garantire all'interno degli istruttori. Questo è un passo importante. E allora che cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto riformare tutte tutte le principali forme di contatto tra i detenuti e gli affetti. Quindi non ci siamo limitati, mai come oggi limitazione, lo metto tra virgolette visto l'importanza, alle visite intime. Abbiamo voluto riformare gli incontri fuori e dentro il carcere, ad esempio, permessi familiari. Oggi abbiamo solo i permessi proprio e i permessi di necessità. Si diceva bene prima un altro cambio di visione, uscire dall'orizzonte della premialità. I diritti non sono premi. Se noi li consideriamo premi, diciamo che fanno parte della pena e quindi rientriamo nella logica della pena come mortificazione del corpo. I diritti sono diritti. E quindi l'introduzione dei permessi familiari. Non permessi di necessità per eventi straordinari, ma permessi per coltivare gli affetti. Cosa che oggi non è possibile fare. Poi abbiamo introdotto colloqui separati per i minori di anni 14 e invece i nuclei familiari adulti. Perché se le esigenze sono diverse, e questo ce lo dicevano le ricerche, perché per fare riforme serve conoscere la realtà che si vuole riformare. Se le esigenze sono diverse, i colloqui devono avvenire in modo separato. Quindi i minori in luoghi distinti, con spazi all'aperto, con attività ludiche ricreative, perché i minori non devono essere adultizzati durante l'ora di colloquio e posti anch'essi nella situazione di reclusione in cui si trovano i loro familiari. Oggi è così. E gli adulti in altri spazi, in spazi riservati, silenziosi, dove è possibile capire che cosa si sta dicendo. Perché oggi nelle stanze colloquio spesso non è possibile capire cosa dice l'interlocutore, perché sono talmente affollate e talmente rumorose che diventa veramente arduo poter svolgere un colloquio normale. Poi abbiamo riformato le telefonate. Oggi abbiamo telefonate tra dieci minuti, gestite dall'amministrazione penitenziaria. Vuol dire che nel momento in cui dieci minuti scadono la linea si interrompe. Dobbiamo ridare dignità anche alle telefonate. Quindi telefonate da venti minuti che possono avvenire quotidianamente e anche qui la riforma arriva dai detenuti. Durante la ricerca ci dicevano, allora bisogna capire, i colloqui sono diritti o sono servizi. Perché noi li paghiamo. Se sono servizi, allora devono essere liberalizzati. È necessario poter disporne in autonomia. Se sono diritti non devono avere una tariffa. Ed ecco il perché abbiamo liberalizzato anche i colloqui. Quindi la risposta legislativa già c'è. Ed è una proposta di legge che riassume due consessi importanti. Parliamo di due delle regioni più importanti d'Italia, Lazio e Toscana. Nonostante l'iniziativa di due istituzioni così importanti, le proposte sono rimaste inattuate. Oggi abbiamo anche quella che era la regolamentazione di cui parlava la Corte ben dieci anni fa. Quindi in un mondo penitenziario particolarmente in sifferenza, sto usando nuovamente le parole dell'ordinanza Gianfilippi, non c'è tempo. Non c'è tempo per mettere in mora nuovamente un legislatore pigro che ha dimostrato, nonostante tutte le novità che ci sono state in questi dieci anni, di non avere alcuni interessi a regolamentare questo settore e a ridare la pena la dignità che merita. Grazie. Grazie a Sara Griego per aver illustrato compiutamente anche gli altri articoli di cui si compone questa proposta di legge che vanno a eliminare l'afflittività che in qualche modo oggi si dispiega su tutte le relazioni che i detenuti possano o non possano avere, quindi anche i rapporti con i figli, i rapporti con persone terze. volevo aggiungere una cosa a Stefano Anastasia prima di dare la parola a Franco Corleone. Sì, avevo dimenticato di dire una cosa importante che ora Sara Griego mi ha fatto rammentare, cioè che la proposta presentata nella passata legislatura dal Consiglio regionale del Lazio in Parlamento all'esito della ricerca di cui Sara Griego diceva, è stata votata con il consenso di tutte le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale del Lazio e questo lo voglio dire perché questo sta a significare che intorno a queste questioni si può produrre un consenso di carattere generale e quindi se questa può essere una preoccupazione non giuridica evidentemente ma politica della Corte Costituzionale anche una preoccupazione di questo genere credo possa essere superata. Franco Corleone. Mi pare di poter dire che questo incontro, grazie agli interventi del professor Andrea Pugiotto e di Sara Griego, mette con chiarezza estrema le ragioni profonde per questa proposta. Se noi facessimo l'elenco dei paesi europei dove questa possibilità viene esercitata faremmo un elenco lunghissimo dall'Austria al Belgio alla Germania all'Olanda alla Francia al Portogallo alla Spagna ai paesi nordici cioè l'Italia manca all'appello per motivi che sono veramente neppure legati a una cultura mediterranea perché appunto la Spagna sia nella versione della Catalogna della Spagna tutt'intera dimostra che non è quella la ragione. In Italia c'è un di più di morbosità cioè la cultura che si vuole imporre al carcere è quella della sessualità delle case chiuse insomma e infatti l'obiezione che viene portata da alcuni che abusivamente parlano a nome della polizia penitenziaria dicono ma ci volete far fare i guardoni con un'espressione rancida diciamo ma la verità è che non prevedendo il controllo visivo anche questa ipotesi che viene suggerita non è reale e quindi in realtà quello che vorrebbero sarebbe proprio poter guardare dal buco della serratura quello che succede fra detenuti o detenute e i loro compagni o le loro compagne. Non c'è una ragione appunto rispetto a quello che accade nel mondo e in Europa rispetto alle ragioni costituzionali affermate undici anni fa noi siamo di fronte alle proposte di legge di parlamentari e di consigli regionali che secondo la possibilità offerta dalla Costituzione hanno inviato al Parlamento proposte di legge di fronte a tutto questo c'è un blocco un blocco che deve far riflettere la Corte Costituzionale cioè la via del semplice appello al Parlamento perché operi non è la via utilizzabile è già stata percorsa inutilmente come diceva il professor Pugiotto ci aspettiamo dalla Corte Costituzionale un'affermazione chiara di incostituzionalità e di scelta che possa già in attesa di norme puntuali possa comunque vedere affermato un diritto nelle forme che potrebbero essere affidate alla magistratura di sorveglianza nelle more di una norma di legge più precisa nel 2000 nel regolamento avevamo inserito questa possibilità il Consiglio di Stato disse che occorreva una legge ma era un parere si poteva andare avanti ma chi aveva responsabilità politica decise di adeguarsi al parere del Consiglio di Stato dicendo faremo la legge sono passati 23 anni da allora e quello che è incredibile è che anche la norma nel regolamento del 2000 che prevede la possibilità di colloqui lunghi alcune ore con la possibilità anche di pranzare assieme fra detenuti e famiglie è assolutamente inapplicata cioè anche quella norma che è presente nell'ordinamento non è applicata con una scusante che è quella che mancano i locali adatti eccetera ma il regolamento diceva che per fare queste cose c'era un tempo di 5 anni ne sono passati 23 e non sono state fatti neppure questi luoghi non le stanze per l'intimità ma neppure quelle per un colloquio lungo con la possibilità di mangiare assieme ora certo si dice che la norma è una norma non vincolante è ordinatoria è non perentoria tutto quello che si vuol dire ma un ritardo di 23 anni e di 18 rispetto ai 5 previsti se non è un reato è un crimine politico decida l'amministrazione penitenziaria se siamo di fronte a un'omissione o a un crimine politico questa proposta viene in un momento assai difficile per il carcere perché il sovraffollamento ha iniziato a mordere di nuovo l'ha ricordato nel saluto finale del collegio nazionale dei garanti Mauro Palma assieme a Emilia Rossi e a Daniela De Robert che salutiamo per il lavoro fatto in questi anni e attendiamo il nuovo collegio dei garanti nazionali è stato detto due giorni fa che siamo a quasi 60.000 detenuti e questo crea delle condizioni che non garantiscono non solo la vita quotidiana ma neppure il diritto alla salute che è diritto fondamentale dice la Costituzione all'articolo 32 questo aggettivo è utilizzato nella Costituzione una sola volta ed è per il diritto alla salute diritto fondamentale bene in carcere non è tutelato adeguatamente e anche la mancanza di questo diritto provoca danni alla salute alle relazioni umane alle relazioni familiari che vengono enfatizzate in tante norme ma che nei fatti perché la privazione del diritto all'affettività alla sessualità colpisce non solo il detenuto o la detenuta ma anche il compagno la compagna il marito la moglie che non sono detenuti ma subiscono questa privazione e se non accettano questa condizione ci sono altre conseguenze che certamente non favoriscono le relazioni presenti e future ecco questo appello è stato detto a firme di un'autorevolezza straordinaria che credo non sfuggirà alla Corte Costituzionale io penso che anche in tempi che possono apparire contrari alla visione dei diritti noi confidiamo che ci sia un ancoraggio ai principi costituzionali Stefano Anastasia prima ha ricordato che anche un modesto aumento di una telefonata al mese mi pare è stato inserito in un disegno di legge sulla sicurezza l'ennesimo pacchetto di sicurezza ebbene in quella fra le tante cose che ci sono in quel decreto ce n'è una che mi ha colpito molto credo che ha colpito molto i garanti e chi si occupa del carcere cioè un nuovo reato quello della possibilità di rivolte in carcere mi pare che è definito come una novità e di fronte alle temute rivolte cioè il governo non pensa di fare qualcosa per eliminare le cause di una possibile protesta ma ha pensato a come pulire le eventuali proteste ed è arrivato al punto di prevedere una pena alta anche che per le manifestazioni pacifiche c'è scritto così che per le manifestazioni pacifiche c'è una pena detentiva di anni di carcere ulteriore rispetto cioè anche una manifestazione non violenta probabilmente anche un digiuno verrebbe colpito dovrebbe essere almeno tre bastano tre detenuti che non rientrano in cella o che decidono di protestare restando all'aria alla fine dell'aria e diventa una rivolta perseguibile penalmente ecco voi capite che se c'è questa idea la nostra proposta potrebbe apparire stravagante ma i 14 giudici della Corte Costituzionale hanno dei testi che sono stati presentati un testo che è il nostro appello e hanno i principi della Corte Costituzionale e hanno l'atto del giudice di sorveglianza Gianfilippi di Spoleto a cui rifarsi e non alle condizioni della retorica securitaria quindi noi oggi ci affidiamo con fiducia a una soluzione che possa consentire nel carcere diffondere nel carcere l'idea che i diritti hanno ancora spazio e possono addirittura essere affermati con più forza rispetto alla situazione attuale grazie a Franco Corleone mentre ascoltavo Franco pensavo che abbiamo questa attenzione del governo e questa tensione spasmodica ad allargare l'ambito delle condotte considerate illegali anche per le persone che sono già detenute e non c'è nessuna considerazione di quanto illegali siano le carceri italiane attualmente da un punto di vista proprio da molti punti di vista a partire da quelli delle condizioni di agibilità strutturali a quelle delle condizioni di igiene alle garanzie per il diritto alla salute eccetera eccetera alla non conformità con la finalità costituzionale della pena ci sono domande da parte di collegati giornalisti o da parte di chi è qui se non ci sono domande noi abbiamo abbiamo finito questa conferenza stampa e attendiamo la pronuncia della Corte con la speranza che sia una pronuncia chiara netta ed efficace grazie 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 grazie